Questo poi sarà compito del Presidente della Repubblica e delle vicende politiche conseguenziali. Senta la possibilità che si torni a votare con il Porcellum? L'ho detto poc'anzi, noi abbiamo sempre ribadito in questi mesi che eravamo pronti a mettere in sicurezza il Porcellum e introdurre in termini quasi chirurgici e brevi quelle modifiche che ponessero il Porcellum al riparo dei dubbi di costituzionalità manifestati dalla stessa Corte, introdurre la soglia di accesso per prima di maggioranza. Questo aveva detto la Corte in due ordinanze e questo si sarebbe potuto fare subito perché basterebbe una norma e si eviterebbe che questa legge possa essere adombrata, viziata di dubbi di costituzionalità. Tutto questo purtroppo ancora non è stato fatto, ma non è stata colpa nostra. Grazie.